Salve a tutti, queste video lezioni su Aristotele servono per ripassare la sua filosofia o per approfondire qualcosa o per rivedere una spiegazione su un argomento che non si è ben compreso. Naturalmente è sempre necessario, purtroppo per voi, studiare anche dal manuale. Questa è la prima video lezione, in questa prima video lezione cercheremo di vedere l'importanza di Aristotele. Cercheremo anche di vedere la sua vita, il contesto storico in cui si sviluppò e che quindi influenzò anche le sue opere, il suo pensiero. E naturalmente le sue opere. Prima di tutto, come era Aristotele, questo è un busto raffigurante Aristotele della scuola di Lisipo, una coppia romana della scuola di Lisipo, del famoso scultore greco. Bene, vediamo adesso l'importanza di Aristotele. Per venti secoli, dal IV secolo a.C. in cui operò fino al XVII secolo d.C., il Seicento, possiamo dire che la filosofia di Aristotele ha costituito la base non solo della filosofia occidentale, ma dell'intera cultura occidentale. La sua influenza spazia dalla letteratura alla filosofia, dall'arte all'astronomia, dalla medicina alla botanica e via dicendo. Per comprendere questo, possiamo anche servirci del famoso squadro alla scuola di Atene, che vediamo meglio qui, di Raffaello, nel Vaticano, in cui sono raffigurati Platone e Aristotele, al centro di una serie di personaggi che raffigurano sapienti di ogni età, di ogni epoca, di ogni luogo e di ogni disciplina. Ci sono appunto fisici, matematici, geometri, astronomi, filosofi, retori e via dicendo. Proprio il fatto che Aristotele e Platone siano posti al centro sta a significare che, ancora ai tempi di Raffaello, si ritenevano l'opera e il pensiero di questi due personaggi come la base di tutto il sapere successivo. Come giustificare questa convinzione di Raffaello e non solo di Raffaello? Bene, facciamo degli esempi concreti presi dai singoli ambiti. Per quanto riguarda, per esempio, l'arte e la letteratura, le regole che la commedia e la tragedia seguiranno per centinaia di anni sono quelle definite da Aristotele nella sua opera La Poetica e sono l'unità di tempo, di luogo e di azione. Autori come, che so, Seneca nel primo secolo dopo Cristo nella composizione delle sue tragedie, oppure autori come quelli della grande tradizione drammatica francese, che so, Racine per quanto riguarda la tragedia, o Molière per quanto riguarda la commedia, seguiranno queste regole, regole che specificavano che la vicenda doveva svolgersi in un tempo omogeneo, in un unico luogo, e doveva esserci anche un'unità di azione, una coerenza nell'intreggio, nella trama. Il tutto a rispettare l'altra regola aristotelica della verosimiglianza. Prendiamo l'astronomia adesso, le scienze della natura in generale. Bene, il sistema aristotelico-tolemaico, cioè elaborato da Aristotele e da Ptolomeo, detto anche, conosciuto anche come sistema geocentrico, che rappresentava quindi il sistema solare, l'universo, con al centro la Terra, rimane la visione, la concezione della natura e dell'universo, dominante fino al 600, fino al 500-600, fino alla rivoluzione scientifica. Ancora Dante, per esempio, utilizza l'immagine aristotelica dei cieli per il suo paradiso. le università, nelle università i rappresentanti della rivoluzione scientifica nel 600 si dovranno scontrare con gli aristotelici, perché il sapere che veniva impartito nelle università nel corso di un periodo che va più o meno dal 200, ancora al 600, era quello aristotelico, nei vari ambiti, che sono la zoologia, la medicina, la fisica, e così via, dominava Aristotele. Stiamo parlando del XVII secolo, cioè del 600, quindi, essendo Aristotele vissuto nel IV secolo avanti Cristo, stiamo parlando di un dominio delle idee di Aristotele di 2000 anni. Ancora perché è importante Aristotele, sempre nell'ambito astronomico e delle scienze naturali, perché è stato colui che, per esempio, ha dato la prima grande formulazione della logica, dei suoi principi e delle sue leggi, che rimarrà valida fino all'Ottocento, grosso modo. È la stessa sistemazione delle scienze. Gli stessi nomi con cui noi individuiamo le vere discipline, medicina, biologia, eccetera, sono quelli che vengono dati da Aristotele. Come il lessico delle nostre discipline scientifiche, e molti dei principi su cui essi si basano, sono ancora, non tutti è evidente, sono ancora quelli aristotelici. Prendiamo un altro ambito ancora, molto importante nella cultura occidentale, come quello della religione, che possiamo dire ha dominato in un ambito culturale, fino appunto alla rivoluzione scientifica, la religione cristiana in particolare. Si viene a creare, a partire dal 200, ad opera di alcuni filosofi come Tommaso d'Aquino, interprete di Aristotele, una sorta di saldatura tra il pensiero aristotelico e il cristianesimo. E il ruolo che il pensiero aristotelico viene ad assumere è quello di concezione della natura propria del cristianesimo. In pratica il cristianesimo utilizza l'aristotelismo per costruire una propria visione della natura, rivedendolo ovviamente, rendendolo compatibile con i propri dogmi. E quindi l'aristotelismo, ancora una volta, al centro della scena della cultura, l'aristotelismo cristianizzato. Ebbene, in questi 2000 anni, molte sono le immagini con cui è stato raffigurato questo personaggio di Aristotele. Molto famosa, per esempio, la prima di queste immagini che vedremo, è l'immagine di Aristotele come maestro. Maestro di coloro che sanno, lo definisce Dante nel canto quarto dell'inferno. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli esponenti del sapere europeo di tutti i secoli hanno imparato da Aristotele. Aristotele è maestro di tutti loro. E quindi Aristotele diventa il filosofo, anzi il sapiente, il filosofo in senso ampio, in senso largo, per eccellenza. E la filosofia di Aristotele diventa, fu per lungo tempo, per lunghi secoli, considerata come la massima espressione della conoscenza. La filosofia aristotelica, infatti, comprendeva, conteneva ed esprimeva tutte le verità relative alla natura a cui l'uomo era raggiunto, a cui Aristotele era raggiunto. Qui abbiamo un manoscritto, una pagina della fisica di Aristotele, accanto a una Bibbia, una Bibbia del XVI secolo, la Bibbia del XVIII secolo. Come mai questo accostamento? Perché i testi di Aristotele nel campo delle scienze naturali e la Bibbia nel campo morale e religioso sono le due massime autorità su cui era fondato il sapere europeo-occidentale fino al 500-600. Quando ci sarà il grande scontro tra la tradizione fisico-aristotelica e cristiana e gli esponenti della rivoluzione scientifica come Copernico, Keplero, Galileo, Cartesio, eccetera, eccetera. Queste due opere, questi due libri, costituiscono infatti le massime autorità nel campo del sapere. Aristotele è la summa autoritas, la somma, la massima autorità. Cosa vuol dire? Che la filosofia di Aristotele, ancora nel 600, è intesa come un sistema di dogmi indiscutibili. Dogma significa verità che deve essere accettata in quanto tale, senza essere sottoposta a nessuna discussione, nessun vaglio critico. Perché? Perché contiene già di per sé la verità. E questa concezione dell'autorità, o principium autoritatis, come anche viene definito, si concretizzava nell'ipsedixit. Ipsedixit, così disse. Ovvero, di fronte a una questione, a una discussione, a un problema, a un qualsiasi argomento, si andava a vedere cosa avesse detto intorno ad Aristotele. Quella era la verità. Per cui, per risolvere un problema, appunto, la soluzione era il testo di Aristotele, o il testo della Bibbia, se si parlava di questioni religiose. E quindi Aristotele e i testi aristotelici sono il criterio decisivo per sapere se una certa affermazione è vera o è falsa. Naturalmente questa concezione, questa immagine di Aristotele come Somma Autoritatis, Autoritas, è negativa. È l'immagine del principio di autorità, proprio del dogmatismo, contro il quale combatterà la rivoluzione scientifica. Si pensi a Galileo, che si scaglia contro gli Aristotele dicendo, voi vivete in un mondo di carta, di fronte a una determinata questione, non andate a osservare la natura, ma leggete quello che ha scritto Aristotele. Eppure Galileo ha parole di elogio nei confronti di Aristotele, dicendo che Aristotele, nella contrapposizione tra lui Galileo e gli aristotelici, avrebbe scelto, dice Galileo, avrebbe scelto me, non avrebbe scelto voi, perché voi gli aristotelici siete cattivi discepoli di Aristotele. Perché Aristotele era invece non un dogmatico, ma un empirico. Aristotele indagava la natura con lo strumento dell'esperienza, non con un sapere di tipo libresco. Bene, vediamo adesso qualcosa della vita di Aristotele. Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.C. e muore a Calcide nel 322 a.C., quindi all'età di 63 anni. Il padre di Aristotele, si chiamava Nicomo, che era un medico, lavorò presso la corte del re di Macedonia. Quindi Aristotele, nato a Stagira, vive a Pella per un certo periodo. Nel 367 è ad Atene e entra nell'Accademia di Platone. E per vent'anni starà l'Accademia di Platone, fino alla morte del maestro, e sarà uno dei principali collaboratori di Platone. Alla morte di Platone, Filippo di Macedonia, Filippo II, colui che conquisterà la Grecia, lo chiama a Pella per istruire il figlio Alessandro, che aveva allora circa 13, 14, 15 anni. Fino al 336 rimane a Pella, poi ritornerà ad Atene perché Alessandro comincerà la sua carriera politica. Molto significativo questo incontro tra quello che fu uno dei massimi condottieri, conquistatori e politici dell'antichità, e uno dei massimi filosofi di tutti i tempi, pare che, anche se divergevano riguardo a molte questioni, come l'intento, per esempio, di Alessandro Magno, di ellenizzare i barbari e di uguagliarli ai greci. Pensiero a questo molto avanzato, che Aristotele, che era molto conservatore al riguardo, non condivideva affatto. Bene, tornato ad Atene, Aristotele apre una sua scuola. In realtà aveva già insegnato ad Asso e a Mitilene, aveva aperto dalle scuole subito dopo la morte di Platone, infatti aveva abbandonato l'Accademia Platonica, era andato ad Asso, dove conobbe Ermia, tiranno di Mitilene, di cui sposò la figlia. A pridice aveva una scuola a Mitilene, una scuola ad Asso, poi, appunto, ad Atene l'Accademia. E' il cosiddetto liceo, o peripato, e qui svolge fondamentalmente due attività, la ricerca e l'insegnamento. Avalendosi di collaboratori, ben presto la scuola diventa molto famosa e molto importante. Quando Alessandro muore nel 323, Aristotele si trova in difficoltà e deve fuggire da Atene, e si trova in difficoltà perché Atene era sotto il dominio del Macedone, molto mal visto dagli Atenesi, specie da Demostene, e appunto c'è un'insurrezione anti-Macedone. Aristotele fugge a Calcide, appunto, nell'Eubea, in questa penisola, e qui morirà qualche mese dopo, sempre nel 323. Quindi, riassumendo, nasce nel 384 a Stagira. Da bambino si reca a Pella, seguito del padre medico alla corte Macedone. Quindi, nel 367, è ad Atene, dove per vent'anni è discepolo, è collaboratore di Platone. Alla morte di Platone si reca ad Asso e a Mitilene, dove fonda delle scuole. Quindi, di nuovo, a Pella, dove per circa sei anni secondo alcuni, tre anni secondo altri, è fino al 336 precettore di Alessandro. Quindi, lo ritroviamo ad Atene, dove apre la sua scuola nel 335. Finché è morto Alessandro, nel 323, si rifugia a Calcide e qui muore. Vediamo adesso, brevemente, il contesto storico in cui Aristotele vive. Il contesto storico è importante perché ci permette di capire quelle che sono le differenze rispetto a Platone. C'è un mutamento di fondo. La polis è in crisi. Quindi, quella che era stata l'unità politico-sociale di base della cultura greca, la città, non è più un'entità politicamente autonoma, indipendente, in quanto la Grecia viene conquistata dai Macedoni. E quindi c'è la perdita dell'indipendenza da parte della Grecia e delle città greche. Quindi non abbiamo più a che fare con dei cittadini impegnati politicamente, che partecipano direttamente all'attività politica. Da cittadini, questi, i greci, infatti, sono trasformati in sudditi. Questo ovviamente condiziona anche la filosofia e il sapere, e quelle che sono le finalità che la filosofia e il sapere si pongono. Che non saranno più di tipo politico-morale, come in Platone, ma di altro tipo, lo vedremo, come accade appunto con Aristotele. Per quanto riguarda le opere di Aristotele, qui vediamo una pagina stampata dell'Organon, del 1495, vengono divise in opere acroamatiche, significa opere destinate all'ascolto, e in esoteriche, o esoteriche, chiedo scusa, cioè riservate a pochi segreti. In realtà non erano segrete nel senso che venivano nascoste, o erano riservate a pochi, ma erano i testi che venivano utilizzati nelle lezioni, nella ricerca, all'interno dell'accademia. Quindi, diciamo, erano riservate all'interno della scuola, non erano destinate al pubblico, fuori dalla scuola. Sono queste le opere che ci sono pervenute di Aristotele. Gli scritti esoterici, ex-oldri e fuori, quindi destinati al pubblico, fuori dalla scuola, che erano dei dialoghi, con uno stile letterario molto raffinato, non ci sono invece pervenute. Studierete nel manuale quali sono, di quali titoli abbiamo conoscenza. Mentre le opere acromatiche sono particolarmente significative, vennero ordinate in seguito, in gruppi che comprendono le opere di fisica, di logica, l'organon, cosiddetto, le opere dedicate alla poetica, e gli scritti che Aristotele chiamava di filosofia prima e che noi chiamiamo di metafisica, e infine le opere morali e politiche. Cosa c'è da dire su queste opere? Brevemente due cose. Erano scritte con uno stile molto semplice, molto chiaro, privo di orpelli retorici letterari, molto scarno, usavano termini anche molto tecnici. Perché? Perché erano appunto appunti presi, appunto appunti, molto bello, presi durante le lezioni tenute da Aristotele e dai suoi collaboratori, magari dagli stessi studenti, e venivano utilizzate nell'attività di studio. Oppure erano i resoconti di ricerche che venivano condotte da Aristotele stesso e dai suoi collaboratori. hanno un carattere abbastanza sistematico, anche se lo stile è molto eterogeneo. Solo alcune parole sulla storia delle opere acroamatiche. furono ritrovate nel primo secolo avanti Cristo, erano andate smarrite, dopo che Aristotele aveva abbandonato il liceo, nella casa dei discendenti di un certo Neleo, discepolo di Aristotele, che insegnò ad Asso, quindi furono ritrovate qui. E furono portate a Roma dal generale romano Silla, dal dittatore Silla, e pubblicate da Andronico di Rodi. Come abbiamo detto, comprendono, le principali almeno sono, l'organon, che comprende i sei libri di logica, che Aristotele chiamava analitica, la metafisica, 14 libri, che comprendono scritti di varie tipologie, che trattano, insomma, di quella che Aristotele chiamava la filosofia prima. Fu Andronico di Rodi, secondo una tradizione, a chiamare così questi scritti, metafisica, parola non aristotelica, perché venivano dopo gli scritti della fisica. E quindi metà ta fisica, metà dopo ta fisica, le cose della fisica. E quindi metafisica. E' un termine particolarmente riuscito, perché metafisica può anche essere inteso ciò che va oltre la fisica, cioè ciò che va oltre l'apparenza sensibile, sensibile, quindi riguarda l'essenza della realtà. Poi abbiamo gli scritti di fisica, che non sono propriamente di fisica, riguardano anche la matematica, la storia naturale, la botanica, la zoologia, la psicologia, eccetera, eccetera, e gli scritti di etica. Bene, che influenza hanno avuto? Sparite per molto tempo queste opere, nell'Alto Medioevo non si ha notizie, infatti l'Alto Medioevo fu dominato dal pensiero di Platone, ricompaiono, grazie, nel XIII secolo, cioè nel 200, grazie agli arabi. Dagli arabi passano ai latini, agli occidentali, Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, e diventano per secoli i testi base della cultura europea, e manuali su cui essa si fondava. Come detto prima, l'importanza dell'aristotelismo fu tale, che ancora nel 600 Galilei, nel suo tentativo di combattere per l'affermazione e diffusione della scienza, si dovete scontrare con quella che era la cultura ufficiale del suo tempo, e la cultura ufficiale del suo tempo era appunto l'aristotelismo.